dopo praticamente sei ore forse qualcosa di più ho terminato la costruzione e questa è la terza casa che realizzo di questa di questa marca devo dire che l'effetto finale è sempre molto molto bello molto ricco di particolari però resta sempre il difetto di alcuni pezzi che si incastrano non benissimo in questo caso ho trovato anche un pezzo rotto praticamente il lampioncino che poi metterò anche in foto quindi non posso metterlo a meno che non faccia una riparazione con il pollico alla caldo però i particolari sono tantissimi livello di difficoltà anche costruttiva abbastanza alto soprattutto per il tetto che sinceramente è stato fatto molto molto male io l'ho costruito al contrario e altrimenti non non sarei riuscito a farlo per il resto la costruzione è bella effettivamente può essere messa in esposizione dentro una teca altrimenti prende polvere però i dettagli sono tantissimi e vale la pena il prezzo non è nemmeno troppo alto per considerando che sono circa 1700 pezzi bel prodotto peccato per la qualità costruttiva e per alcuni pezzi che non non si incastrano proprio alla perfezione ci vuole un po di manualità però alla fine il risultato è notevole grazie